Attenzione ragazzi, attenzione, perché qui abbiamo di nuovo l'opposizione controllata, un rettile che si fa chiamare Montesano, infatti finisce con Anno anche, e sta giocando un'altra carta, cioè associare i complottisti a estremisti di destra pericolosi, vediamo, lui provando, abballando, cioè abballando, cioè una trasmissione per rettile, lui è invitato, guarda a caso il rettile lo invita in tv questo, incredibile, con la maglietta decima mass, ex mass, ex mass che sarebbe Christmas, cioè quando si festeggia il sole diciamo, eccolo qua, il nostro rettilino che vince di far parte del popolo, cioè del popolo, di quei pochi insomma che non si sono presi il succo magico, guarda il rettile, puoi da notare anche queste trasmissioni così dove il rettile giudica sempre le pecore, no? Ce ne sono tanti, magari faccio un altro video su quello, un po' in stile così, Hunger Games, dove il rettile giudica le pecore che fanno i clown, che ballano, saltano e cazzeggiano, dove il rettile, il rettile poi giudica. Qui abbiamo il selvaggio Lucarello, dice, dalle immagini ieri vedo Montesano fare le prove di ballando con la maglietta della decima mass, che se a qualcuno sfugge, e lei lo sa, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, porca puttana, lei c'era, sa tutto questo, nonché simbolo del neofascismo. Ecco, andiamo avanti. Emania, la pecore, ragazzi, la pecore. Qui vediamo un teschio con una rosa in bocca, rosa pentagramma, la rosa 5 petali, pentagramma, X-mas, in inglese X-mas sarebbe Christmas, cioè il 25 si festeggia la rinascita, che il sole, dopo il punto più basso, sembra che rinasca, no? Il punto più basso è il 21, più o meno. E andiamo avanti, cazzo, Montesano, ballando con le stalle, indossa la maglietta delle polemiche polemiche in rai, simbolo neofascismo, Lampi, intervenga, vigilanza, porca puttana, l'attore Novax, impenitente, durante le prove di un nuovo spettacolo del rettile, sfoggia la t-shirt Total Black Con, soscritta, a udere sempre un memento, vediamo un po' cosa significa. Ricorda di essere sempre udace e peore! Quanto sei udace e peore! Allora, toccazzo, chiudiamo questo? Il tweet di Selvaggio, e il commento di Fiorella, ma noi, Fiorello, in realtà, legana, messaggio irricevibile per la tv, la bellissima tv pubblica, piena di trans. Grazie a tutti!